Si è svolta oggi all'Aquila la riunione della maggioranza della regione Abruzzo, chiesta a gran voce dalla Lega per verificare l'attuazione del programma. Infatti è un'esibizione, se vogliamo, muscolare della Lega che ripete le elezioni le abbiamo vinte noi, Marsilio non può decidere tutto lui. Al centro uno dei cavalli di battaglia della Lega, quello dell'autonomia. Il Presidente si è detto d'accordo anche con questa proposta, purché non vada ovviamente a danneggiare le regioni del Meridione, tra cui l'Abruzzo. Però il Governatore Marsilio ha sottolineato anche come su questo tema la Lega avrà un assessorato specifico e che quindi se ne dovrà assumere tutte le responsabilità. Ma ascoltiamo le voci dei protagonisti nelle interviste. Dopo la conferenza stampa che abbiamo convocato è stata chiesta questa verifica di programma, abbiamo registrato una notevole disponibilità da parte del Governatore Marsilio. Da parte nostra comunque non c'era nessuna intenzione di alzare qualsiasi livello di scontro, ma ritenevamo giusto comunque che questa verifica fosse importante sia per vedere un po' com'è la situazione in questo momento nel Governo della Regione Abruzzo, ma anche per un cambio di passo e per un cambio di metodo dove noi abbiamo chiesto da qui in avanti la massima condivisione possibile su tutte quelle che sono le scelte strategiche della Regione. Dobbiamo necessariamente tradurre in concretezza una serie di impegni che avevamo assunto durante la campagna elettorale e che a distanza di sei mesi devono necessariamente essere realizzati e attuati. Onorevole, il fatto che questa richiesta di una convergenza accada a pochissimi momenti dall'avvio della crisi del Governo è un caso questa coincidenza? Assolutamente un caso, l'attività legislativa della Regione Abruzzo è evidentemente concentrata esclusivamente sulla Regione Abruzzo. È stata una riunione molto utile e costruttiva, fatta con uno spirito di reciproca collaborazione, ma non avevo dubbi che sarebbe stata un'occasione utile intanto per fare presto perché abbiamo tanti dossier aperti e tante cose da fare e quindi non ho voluto restare un solo giorno in attesa di una richiesta venuta da un partito importante come la Lega e quindi era giusto soddisfare il più presto possibile questo passaggio. Fra un mesetto circa andremo a rappresentare pubblicamente il risultato di sei mesi di lavoro e ho chiesto quindi agli assessori e alle forze politiche di lavorare insieme per fare in modo che questa presentazione non sia soltanto una celebrazione del buon lavoro fatto e della rivendicazione delle tante cose che abbiamo fatto in soli sei mesi, ma anche la presentazione di un prossimo calendario di attività che noi speriamo peraltro si possa sposare con una nuova stagione politica nazionale che metterà l'Abruzzo in condizioni di avere un governo nazionale con cui collaborare pienamente, con il quale creare le sinergie giuste per portare gli investimenti e l'attenzione che l'Abruzzo merita. È chiaro che la nostra principale preoccupazione è quella di tutelare la regione Abruzzo e gli abruzzesi, quindi se ci fossero richieste di modelli di autonomia che fossero conflittuali con il sud e con le regioni più povere non potremmo mai essere d'accordo. Se invece, come dichiarano anche i promotori delle regioni del nord, sia Bonaccini per l'Emilia Romagna che Fontana e Zaia per Lombardia e Veneto, c'è il rispetto della solidarietà nazionale e del principio della perequazione, l'Abruzzo non ha nulla in contrario al fatto che le regioni che hanno maggiore capacità e maggiore forza possano organizzarsi meglio e più vicino ai territori, anzi magari questa sfida fossimo capaci di raccoglierla anche noi. In ogni caso la Lega ha fatto una richiesta politica su questo, è evidente che c'è una sensibilità particolare da parte della Lega ad assumersi anche la responsabilità attraverso un assessore dedicato a portare avanti questo tema, questo progetto e ad approfondire. È ovvio che ci sono degli impegni, alcuni sono stati assolti, altri non ancora, che lamenta anche Forza Italia, e quindi è ovvio che entro quest'autunno noi riteniamo che tutto debba andare al suo posto e che gli impegni vadano assunti per venire incontro alle esigenze degli abruzzesi. È chiaro che l'autonomia potrebbe essere molto utile laddove vi sia la possibilità di ottenere certi risultati che in questo momento il Sud non è in grado di dare. Quindi è ovvio che per il Sud l'autonomia potrebbe essere addirittura non solo un'occasione persa, ma addirittura l'occasione per aggravare le condizioni economiche che il Sud già vive. Secondo lei la riunione di oggi è un riflesso della politica nazionale, ovvero di una Lega piglia tutto, di Forza Italia e Fratelli d'Italia che rischiano di non trovare più spazio? Io mi auguro di no, certo è che la Lega, come dire, che oggi ha i numeri, sì, un po' di esibizione muscolare tende a farla, però deve stare attenta perché da sola non vince.